L'appuntamento di oggi è veramente molto importante, per una ragione che va un pochino avanti per la cosa sopra. La mia idea della sicurezza nel nostro paese è l'idea di una grande alleanza tra lo Stato nazionale, il Ministero dell'Inferno, che è la proprietà nazionale di pubblica sicurezza. Io considero questa reanza una reanza straordinaria, perché io ho provato semplicemente che una moderna idea di sicurezza, come avete detto voi che siete intervenuti, non può essere gestita da Roma. Roma dà le indicazioni, dice cosa bisogna fare, tipo dice, ma poi c'è il territorio e il territorio, lo conoscono molto meglio del Ministro dell'Inferno, visto che c'è il territorio.